E' scomparso, pensate, da ben tre giorni di tempo, non siano più notizie di lui. Sto parlando di Alexei Navalny, il famoso oppositore di Vladimir Putin, il numero uno, chiamiamolo così. Da tre giorni infatti è scomparso e Kira Yarmish ha informarci di tutta questa realtà. Non siano più notizie di lui e la sua vita è in piano pericolo perché è l'oppositore per eccellenza di Putin. Gli avvocati sono regali recenti nella colonia penale di K6 dove è detenuta una colonia a regime speciale di K7. La vicenda è abbastanza intricata e addonerosa, non è molto facile da gestire, non si sa che pena abbia fatto. E' scomparso infatti da ben tre giorni dopo un incidente di salute ed è in grave pericolo. L'avvocato russo avrebbe avuto infatti un collasso, secondo qualcuno, dentro, all'interno della sua cella. Ovviamente la situazione non è delle migliori, bisognerà cercare di capire e far comprendere quello che nel futuro accadrà, ma intanto di lui sono perse le tracce da tre giorni. Che fine ha fatto? Chiaverei, se fossi qui in Italia, se fossi qui in Italia, la trasmissione di chi l'ha visto di Rai. Il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e una buona giornata.